Gentili telespettatori, buona giornata. Tutti al mare a mostrar che. E cambia di nuovo il tempo. Le previsioni di martedì 8 torna il caldo. 27 gradi in Sardegna. Arriva la prima novembrata della storia italiana. Oltre ai 27 gradi in Sardegna, in Sicilia e in Calabria si arriveranno ai 25 gradi. Ottobre mai così torrido in 220 anni. Più 3,18 gradi sulla media. E così l'Italia viene interessata da un campo anticiclonico di matrice subtropicale che si sta espandendo sul bacino del Mediterraneo. Il cielo è sereno, venti più freddi, manterranno ancora le temperature basse di notte al primo mattino, 4-5 gradi al nord, 7 gradi al centro, 11-13 gradi su gran parte del sud. Di giorno invece non si andrà oltre i 17 gradi. Ma attenzione, il mercoledì, cioè domani, domani si toccheranno anche i 20-27 gradi, cioè i 27 gradi in Sardegna, 25 in Sicilia e in Calabria. Pertanto in tutto il centro-sud le temperature domani saranno superiori ai 20-22 gradi. gradi, pertanto non alla mattina presto, ma dalle 10-11 in poi si può andare benissimo. In maniche corte al 9 di novembre, no? Fra un po' faremo Natale in spiaggia, no? Le caldarroste in spiaggia. L'ottobre è stato da record, ma quello che dicono i meteorologi, che dovremmo abituarci a questi record, perché ogni anno sarà un record e fra un po' guarderemo a questo anno appena trascorso come un anno bello freschino, quando c'era bello fresco. Ecco, intanto sono arrivate le conferme sull'ottobre eccezionalo veramente che ha segnato più di un record. Dal nord e alta Toscana è stata registrata un'anomalia di più 3,18 gradi, che pone il mese come il più caldo dell'anno. Dall'anno 1800, a livello nazionale invece al secondo posto, con più 2,08 gradi contro i 2,13, sopra le medie registrate dal 2001, che detiene il primato, secondo Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma, e allarme anche Pasi cita un grande parte del settentrione escluso l'arco alpino, le piogge sono state meno della metà rispetto alla media del periodo, con punte anche di meno 70. E così ci si prepara a una giornata da anche 27 gradi. Pertanto in Sardegna, insomma, tirate fuori il costume in Sardegna, cari amici in Sardegna, perché domani tutti in spiaggia, tutti al mare, pensando che sia di nuovo quasi estate. La prima novembrata italiana della storia. Caldo record, dal 1800. Va bene. Poi io vado a raccontarvi altre notizie. Il ministro della giustizia Nordio parla del rave. Ve lo ricordate? Il rave che è stato dimenticato, perché adesso è entrata la storia degli sbarchi, siamo tornati indietro al 2019, ma Nordio dice quello che pensa il ministro della giustizia sul rave. Così il ministro della giustizia, in poche parole, zittisce la polemica sollevata dalla SX, la sinistra. Dice così. Secondo le sue intenzioni sovrane. Pertanto Nordio dice attorno al provvedimento varato dal governo sull'onda della vigenta rave party di Modena, restano in sospeso alcuni interrogativi ai quali l'esecutivo darà poi delle risposte. chiaramente il provvedimento è stato fatto in fretta e furia e deve essere sistemato. Questo ha detta di tutti anche del centro-destra. Naturalmente poi arrivano i personaggi come Molinari, che è il direttore di Repubblica, che addirittura vede i genitori preoccupati perché temono l'arresto dei figli. Con il nuovo decreto che limita comunque le feste abusive fatte in maniera illegale, in proprietà private, nei capannoni pericolanti, quindi Molinari, al posto che dire che bravo il governo, il capannone era pericolante, poteva venire fuori un disastro, perché immaginatevi con quelle casse, con quella potenza, un capannone abbandonato da vent'anni poteva venire giù dei pezzi o poteva venire giù anche parzialmente, invece che dire che bravo il governo ha evitato problemi maggiori, a parte l'illegalità, lui Molinari dice poverini, i genitori temono l'arresto dei figli. Ma come si fa ad essere così tristi? Ma come si fa? Questi personaggi ti infondono una tristezza proprio nell'animo, e dire ma con tutti i problemi che ha l'Italia, queste persone vivono in un mondo ovattato, credo, in un mondo che non c'è, perché si vede che queste persone non hanno la concezione di quali siano veramente i problemi in Italia, di quello che sta succedendo, perché andare in televisione a dire che i genitori temono l'arresto dei figli, per andare contro il governo, andare in televisione a dire una roba del genere, credo che sia veramente deprimente, deprimente, ti deprime anche la giornata ad ascoltare queste fesserie. Un mio amico direbbe, quindi, quindi, va bene. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie nuovamente, ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete, dove trovate video di politica, notizie, fai da te, è un canale che sta già superando quasi i 20.000 iscritti, beh, su questo siete 226.000 quasi, mi sono sempre chiesto perché sull'altro solo 20.000? mistero delle iscrizioni, vedo cose. Grazie a tutti, a presto. Ricordatevi, questi video poi sono condivisi in Facebook, nella pagina Tele Italia. Arrivederci a tutti e grazie.